Oh, che confusione! A quest'ora controlliamo! Forse abbiamo degli ospiti, perché sei così felice? Buongiorno, Inid! Abbiamo preparato una sorpresa! D'ora in poi, Mercoledì Adams vivrà con noi! Attenzione! Cosa? Perché non me l'avete chiesto? Non state dimenticando nessuno? Oh, giusto! Scusa, Manu! Secondo questo documento anche tu fai parte della famiglia! Dai un'occhiata alla tua nuova casa a Mercoledì! Oh, che schifo! Troppo colorata! Ora va meglio! Che gli scherzi degli Adams abbiano inizio! Come osa! Sfida accettata! Vuoi fare un bagno, tesoro? Vedi, ti ho portato compagnia! Vai! Non sopporto il giallo! Sistemiamolo! Niente male! Oh, la bambina non ama i colori! Che ne dici di una spugna nera personale? Oh, bene bene! Regali già il suo primo giorno! È ora di fare il bagno! Facciamolo! Acqua bollente, fantastico! È un momento perfetto per dare una lezione a mia sorella! E credo di avere un'idea! Un vestito lasciato incustodito! Ho un'idea migliore! Immagino quanto si arrabbierà! Ops! Non se ne è accorta! Ehi! Oh oh! Sono nei guai! E l'amico Mano è sempre dietro le quinte! Grazie per lo shampoo! C'è mancato poco! Devo andarmene! Gli unicorni non mi piacciono! Oh, tesoro! Ce ne occuperemo noi, non preoccuparti! Oh, sapevo! Avrebbe funzionato! Ti è piaciuto il mio scherzo? A proposito, belle orecchie! Prendi questo! Mamma! Papà! Inid fa la prepotente con me! Oh, terribile! Ma che ti prende? Sei in punizione, so! Oh, che bello! Che ne dici di una fettinatura e di un po' di accessori? Et voilà! Ora è lei a ricevere tutte le mie attenzioni! Che ne dici? Non riesco a smettere di ammirarla! Sapete, ho un'idea! Anche voi dovreste rifarvi il look e mettetevi comodi! Beh, ok, perché no! Creerò un capolavoro! È fatta! Wow! Vediamo! Sì, molto elegante! Lo adoro! Non è possibile! Mercoledì ha fatto un incantesimo ai miei genitori! Perché l'hanno adottata? Eravamo così felici senza di lei! Hai avuto quello che meriti! Non cominciare! Vogliamo solo rendervi felici! Guardate qua! Che c'è nella scatola? Il set della giovane fisica! Santi ragni! Questo braccialetto è delizioso! Che devo farci con questi fili? Ci sono anche altre cose strane! Un altro strano gingillo! Si abbina a qualsiasi vestito! Adoro i pipistrelli! Che schifo! Mercoledì ha ricevuto un regalo più bello! Davvero? Dove lo mettiamo? Bene! Oh! Argento! Sembra siano incredibilmente ricchi! È ora di andare, amico! Sì! È ingiusto! È bellissimo! Ilid Puzzi! Giusto, papà! Mi vendicherò! Buongiorno! Questo è per voi, famiglia! Non aspettavamo la posta! Ah! Forte! Un passo avanti verso i miei tesori! Ma che stai guardando? È sospetto! Una crociera alle Hawaii! Ci voleva una vacanza! Grazie! A te non dispiace se andiamo! Ma certo! Non ho scelta! Ciao, bambine! Comportatevi bene! Tutto sta andando secondo i piani! Facciamo un po' di sorveglianza! Oh! Beccato! Un criminale! Oh oh! Aspettami! Sono stato declassato! Bambine insopportabili! Troverò il modo di gestirle! Oh! Che facciamo adesso? In questi casi la gente si rivolge alla polizia! Ho paura delle altezze! Ma così non potrete chiedere aiuto, carine! Allora! Non c'è linea qui! Non facciamoci prendere dal panico! Pace, Inid! Lo sconfiggeremo insieme! Iniziamo! Dobbiamo memorizzare il piano di battaglia! Con queste trappole il nostro ladro avrà sicuramente difficoltà! E andrà dritto in prigione! A fare fatto è ora di iniziare! Nessuno può prendersi gioco di noi! Questi minuscoli pezzi di Lego faranno molto male! La prima sorpresa è in arrivo! Oh! Diamogli un caloroso benvenuto! Non c'è nessuno qui! Facciamo vedere al truppatore che ha scelto la casa sbagliata! La nostra poltiglia appiccicosa lo aspetta! Ma gli lascerò anche altri due subdoli regali! Ci divertiremo un sacco! E tu faresti bene a stare zitto! Il filo da pesca sottile sarà difficile da vedere, soprattutto se sei impegnato in un furto! Proviamo! Ottimo! È sicuro! Vai avanti, mercoledì! Voglio sorprenderlo vicino alla porta! Che belle piume! Saranno perfette per l'arredamento! Ehi, sorellina, guarda qua! Oh, i miei chiamiferi ti saranno utili! Batti i cinque, partner! Oh, avete deciso di fare colpo sul bandito! Il poveretto ha zero possibilità! Lo arresterò io stessa! Mopsi, l'unicorno porta fortuna! La mia pistola non conosce nessuna pietà! Attenzione! Sta arrivando! Eccolo! Sto per fare soldi a palate! Ehi, cos'è? Sono praticamente bloccato! Bene, dovrò lasciare fuori le mie scarpe migliori! Oh, che freddo! Ma è troppo tardi per cambiare umore! Due scatole misteriose! Ehi, amici! Quale contiene la chiave della casa? Quella nera? Oh, le mie povere dita! Non è divertente, burlone! Ah, allora questo è una trappola! Ancora una volta niente da fare! Sono spacciate! Queste trappole non mi hanno mai delusa! Io entrerò comunque! Ciao! Ci sarà una lotta, sì! Ricarico per sicurezza! La prossima trappola è pronta! Nascondiamoci! Oh, tutto tranquillo! Le ragazze sono a corto di idee! Questo non serve più! Nei tuoi sogni è il momento! Oh, fa un freddo cane! Sto congelando! Vi prenderò! Oh, saprei solletico! Perdente! Diventerai una stella di tic tac! Oh, che pollo! Ho la bocca piena di piume! Sono stanco di queste trappole! Ops! Oh, che male! Mio Dio! Fai un sorriso! Oh! Questa roba è dolorosissima! Accidenti! Puoi tenerci questo? Nessun problema! Oh, no! Oh, non riesco a respirare! Forte! Oh, oh! Qualcuno ti aiuti? Mano è arrivato in soccorso! Che schifo! È un attacco di un mostro! Lasciami andare, bestia! Ti sta bene! Ah! Mi arrendo! Hai il diritto di rimanere in silenzio! È così triste! Siamo stati ingannati, vedi? Ma noi abbiamo neutralizzato il truppatore! Santo cielo! Consegniamolo alla polizia! Mandate una squadra! Alzati subito! Risponderai dei tuoi crimini! Evviva! Il potere delle sorelle regna sovrano! Dovresti avere il braccialetto! Wow! Grazie, Mercoledì! È bellissimo! E cos'è questo bagliore? Clicchiamolo! Oh, no! Si è trasformata in una bambola! Oh, adesso! E questo? È ancora peggio! Bello! Ciao! Andiamo al cinema! È spaventoso! Come vuoi! Ci puoi scommettere che non sarebbe felice di vedere Mercoledì Adams in persona? Il suo biglietto! Ha un'aria gelido! Wow! È lo stipendio di una normale guardia di sicurezza? Niente male! Ho un'idea a mano! E ora mettiamoci al lavoro sacio! Non è possibile! Sono Ben Ben e Ben Balina! Sembra che questo cinema sia un posto alla moda! Fermi! Vedete questi cartelli? Non potete portare i dolci qui! Oh, no! E adesso che facciamo? Metti qui le tue caramelle! Ma io sono la star! Ti prego! No! È vietato! Le regole sono uguali per tutti! Pikachu ha un'idea! So come intrupolare i dolci di nascosto! Oh, certo! Ci sto, pica pica! Ops! Non impatta! Seguimi! Mano, preparati a diventare ricca! Nasconditi! Arriva qualcuno! Un minuto! Oh, sei troppo allegro! Non ti farò entrare con quel sorriso! Guarda qua! Oh! Ora sembri più serio! Ma che cos'è? Caramelle? Niente caramelle qui! No, no! È solo uno yo-yo! Oh, puoi smettere di squattermi così! Mi stai facendo venire la nausea! Sono un giocattolo! Allora posso? No, non sembra tutto a posto! No, non lo spingere! Pica pica! Pica pica! Ops! Oh, che golosone! Non potevi aspettarmi! Scusa, non volevo! Vediamo! Puoi entrare! Non hai dolci! Niente dolci! Proprio niente! Neanche un lecca lecca! Oh-oh! No! Entra subito nella Pokéball! Mi dispiace, te la sei voluta! Beh, peggio per voi! Gnam 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 gnam! Gnam gnam gnam! Il nostro travestimento funzionerà! Siamo astuti e insidiosi! Ho un piccolo regalo per te! Ecco a te, mostro scarlatto! Grazie, mio caro tesoro! Andiamo, caro! Ehi là! Ciao! Di nuovo questi due strambi! Mano, sai cosa fare? Oh, mamma! Dammi quei braccialetti di caramelle, subito! Ho solo un braccialetto! Beh, forse due! Mano, continua! Cosa? Ok! Le nostre caramelle! Che cattivoni! Poveri ragazzi! A quanto pare non è facile far passare i dolcetti di nascosto da Mercoledì e dalla sua fedele assistente! Allora! Oh, il mio lecca-lecca no! Confiscato! Non voglio lasciarlo andare! È così carino! Aspetta un attimo! Ehi tu, Volpe, dammi quella lingua! No, è il mio regalo! Sì, tanto non ci casco! Mi hai fatto male, lo sai? Sì, lo so! Ora potete entrare! Grazie per averci rovinato l'umore! Quando volete! La via è libera! Ehi, Bambalina! Ho un piccolo segreto! Oh, sei un genio! Che c'è, Mano? Mi sono persa qualcosa! Gelato! Alla vaniglia! Che schifo! Voi due, fuori! I mostri non si arrendono tanto facilmente! Oh! Esattamente! Oh! Ehi tu! Che diavolo è quella? Mano, controlla! La mano è strana! Questi impostori stanno tramando qualcosa! Per favore, lasciati stare! Pensate che sia così facile ingannarmi! Questa mano non è viva! No, Buddy! È solo cioccolato! Non vi permetterò di offendere il mio partner! Smettetela con questa mascherata! Sonic, il nostro piano è fallito! Ok, io non sono mercoledì! Possiamo entrare ora? Sì, ma non così in fretta! Non vi farò entrare con i dolcetti! Aspetta, Emy! Divideremo in parti uguali! Oh! Beatitudine! Miam, miam! Siamo pronti! Primo controllo! Ah! Tirate fuori tutto! Cosa? Siamo a posto? Lo scanner mostra che non è così! Non è vero! Comunque il film sta iniziando! Va bene, entrate! Grazie! Eppure mi sembrano sospetti! Oh mio caro, che paura! Lo scanner non può sbagliare! Questi truffatori nascondono qualcosa! Fai silenzio! Come faccio a scoprirlo? Bene, bene, Emy Rose! Non lo sai che mangiarsi le unghie è una brutta abitudine? Ma se sono fatte di caramelle, allora va bene! Oh, lo sapevo! Questo film è finito per poi due! Oh, la signorita! Pikachu, sei impazzito? Bamboleira! Pikachu, parlo con te! Non sono Pikachu, sono Pedro! Ok! Dammele! Un'intera maracas piena di M&M's! Pensavi davvero di farmela sotto al naso? Non lo sapevo, lo giuro! Le ho comprate che erano già così! Potrebbe essere! Cos'è questo odore? Oh, oh! Dammi il tuo sombrero! È evidente che stai nascondendo qualcosa! Oh, pizza dolce! Questa, come la spieghi? Non è la mia? Come fai a mangiare questa roba? Ecco come! Gnam gnam! Non ti lascerò entrare! Battene! Grazie lo stesso! Ti auguro di non divertirti! Ciao! Questa volta funzionerà! Bene, bene! Vai tu per primo! Oh, no! Fammi vedere! Oh, oh! È tutto chiaro! Mano? Sai cosa fare? Che pancia enorme! Allora è proprio vero che i dolci fanno ingrassare! Oh, questa stupida mano! Ma che stai facendo? Oh, Bambalina, aiutami! Un attimo! È una scorta di caramelle per una settimana! State scherzando? Uscite! Scusa, fratello! Scusate! Guarda come si fa! Sei un perdente! Beh, sei pulita? Va bene, il tuo biglietto! Ecco! Oh! È il momento! Oh, delizioso! Oh! Ehi, posso entrare? No! Le mie caramelle! Fuori! Cattiva! Ancora voi! Siamo puliti, facci entrare! Non così in fretta, pomodoro! Controlliamo! Nessun problema! Cos'è questo? Dammelo! Prendilo! Prendilo! Oh! Uh! Stai bene? Ok, potete entrare stavolta! Te l'avevo detto! Vai, clown! Bambalina! Preparati al film più dolce della tua vita! Wow! Ah, sì! L'elicottero è geniale! Frighiamoci prima che ci senta, ok? Ce n'è ancora! Oh, Coca-Cola! Sì, direttamente dal frigo! Fantastico! Ho delle cannucce proprio qui! Oh, sembra che Ben Ben e Bambalina siano riusciti a superare mercoledì in astuzia! Ecco! E non goderti troppo il film! Dovevi davvero farlo? Fermati! Che sono queste guance? Non so di che parli! Sputa il raspo! Ok! Tieni! Che schifo! Mettilo qui! Spero che qualcuno lo abbia visto! Le mie povere caramelle! Oh, entra! Sei già in ritardo! È un ottimo regalo per Puxley! Di sicuro non gli piacerà! Oh, cos'è questo rumore? Quei delinquenti! Bene, ok! Ora gli offrirò una caramella amicidiale! Dov'è il nostro drone? Ho fame! Sì, anch'io! Oh, è qui! Finalmente! Strano! Non l'ho ordinato! Tieni! Oh! Oh! Dov'è il mio cioccolato? Oh, si è rotto qualcosa! Pica pica! Ancora pochi secondi e... Perfetto! Mai scherzare con Marco Leviada! Non è stata colpa mia, però! Salve! Ho portato il poster della nuova anteprima! Wow! Un film su di me! Bene! Assolutamente da vedere! Vi auguro di non godervi il mio film! Bentornati al Wednesday Got Adoption! Sbrigati, sei il prossimo! Stiamo arrivando? Andiamo! Ok, ma stai calmo! Ehm... Ciao, mercoledì! Ciao! Mano, saluta i nuovi concorrenti! Oh, cavolo! Tesoro! Oh! Troppo semplici da scioccare! Un punto per te! Ciao, ciao! Chi è il prossimo? Ciao! Che adorabile bambina! Vieni da noi, mercoledì! Odio i colori vivaci! Questo è un no! Amico, dico che sarà fantastico! Ehi, è mercoledì! Sì! Oh? Voi? Finalmente mi porterete in prigione! No, no! Siamo venuti per lui! È arrivato il momento che risponda per ciò che ho fatto! Simpatico! Beh, ora andiamo! Addio, libertà! Che noia! È arrivato il momento di conoscere la famiglia più spaventosa di sempre! Ora sì che è interessante! Vi presento i Lang Langs! Ciao! Ok, volete giocare? Ho una sfida per voi! Ecco delle scatole spaventose! Dimostrate che non avete paura di metterci le mani! Non ci spaventerai con questo! Che colpo di scena! L'adrenalina è alta! Portate subito un estintore! Riuscite a capire cosa c'è dentro? Qualcosa di viscoso e di cattivo gusto! Liquido e freddo! Olio combustibile e inchiostro! Che affronto! È una trappola! Daddy e Mammy non se lo aspettavano! Oh no! E questi sarebbero i genitori più spaventosi! Ora toccherà a noi ridere! Molto esilarante! Cosa? Tu? Questo non va bene! Non l'hai vista? Abbiamo chiamato tutti! La troveremo! Bugsley! Vuoi guardare la tv? Non perdere la finale di One Stay Got Adoption stasera! Hai visto? La nostra bambina! Come ha osato! Vi faccio vedere io! Non arrabbiarti, Rosellina! Me la riprenderò! Cavolo! Qualcuno è nei guai! Ecco! La prenderò con il mio lazo! Ya! Che ne pensi? Interessante! Ok! Devo riflettere! Bene, bene! Va bene! Prepara le tue cose! Partiamo mercoledì! Adoro viaggiare! Un attimo! Ho un'altra idea! Chiamiamo prima la polizia! Dici sul serio? Oh! Che ne dici dello school ball? Eh? Abbiamo perso nostra figlia! Non c'è tempo per i tuoi stupidi giochi! Beh! Se vogliono una figlia, allora avranno una figlia! Che succede? La famiglia Adam si è tornata insieme! Morticia, non piangere! Forse tornerà! Mercoledì! La vedi anche tu? La mia ragazza! Oh! Gelida come sempre! Vuoi giocare? Ahà! No! Vogliamo gettare un piranha nella vasca dello zio Fester? Ah ah! Ah ok! Che ne dici di vermi dolci? Eh? Eh? Tommeli! Miam! Sei tu! Piccolo bugiardo! Non posso crederci! Ci ha preso in giro! Beh! Volevate una figlia! Eccoci a casa! E questo è il maggiordomo! Ehi! Mercoledì! Ehi! Ma dov'è? Oh no! L'abbiamo persa! Dove può essere andata? Oh! Eccola! Sì! L'ho trovata! A mercoledì non piacciono le cose colorate! Rainbow Huggy è il pericolo! Credo di aver trovato un gioco perfetto! Ancora un po' e la casa di Long Langs sarà irriconoscibile! No! Guarda cosa ho trovato! Facciamola girare! Mombi e Daddy non erano pronti per questo! E cavolo! Dobbiamo neutralizzare subito questo quadro! Ora va meglio! Bene! 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 Uh! Eh? Non è la mia vetrata quella però! E ora? Basta! Siamo andati troppo oltre! Ecco! Ora va meglio! Wow! Devo dire che questa è un'educazione severa! È così carina ora! Dov'è Mano quando ha bisogno di lui? Nel frattempo Mano si trova in una situazione altrettanto difficile! Ora dovrà escogitare un piano di fuga! Lasciatemi libero! Queste sbarre sono troppo forti! Mia cara, tornerò presto da te! Ehi! Ho trovato il modo! Devo farmi crescere i muscoli! Dovrei pensare al mio programma sportivo! Che l'allenamento abbia inizio! Mano è in grado di uscire da qualsiasi situazione! Lo ha sempre fatto! Una prigione non lo fermerà! Ehi! Nuovo arrivato! Alza! Ti devi indossare questa! Ecco il tuo abbigliamento per il prossimo decennio! Prendi! Ehi! Le strisce mi stanno bene però! Oh! E un'altra cosa! Hai ricevuto un pacco! Finger twister! Vuoi giocare? Preparati! Vediamo quanto sei flessibile! Ok! Dito medio sul verde! Il prossimo! Oh! Indice sul rosso! Si fa interessante! E anche pollice sul rosso! Che succede? Sembra che Mano abbia cose più importanti da fare! Marcoledì è in pericolo! Devo andarmene subito! Sto arrivando! Muoviti stupida sbarra! Ce l'ho fatta! Ti troverò a bellezza! Ecco la mia libertà! Codice rosso! Abbiamo una fuga! Maledizione! Il nostro piccolo pipistrello! Perché ci ha abbandonati? Ehi! Volete giocare a badminton? Adoro il badminton! Prendi! Puzzly! Ops! Aspetta un attimo! Te ne dici di un po' di musica? Sì! Ora è più divertente! Ehm... Figliolo! Stai tenendo il violino in modo sbagliato? Ah! Ho capito! Ora va meglio! Hai bisogno di questo! Oh! È vero! Ottima osservazione! Come ho fatto a dimenticarmene? Puzzly! Ehm... Ok! Dipenditi! Yeah! Mamma! Tu adori la scherma! Non ora! Puzzly! Per favore! Giochiamo! Ok! Mon cherie! Sì! Oh! Ok! Mi arrendo! Ottimo lavoro, mamma! Fantastico! E ora dobbiamo rimetterlo insieme! Ecco fatto! Come nuovo! Parte! Ho un'idea! Un secondo! Che gli passerà per la testa? Ma Dan! Ascolta, figliolo! Forse è meglio non oggi! Oh, mamma mia! Guarda, papà! Oh, oh! Oh, no! Di nuovo! Ehi, Manu! Ciao! Smettila di scherzare! Dobbiamo salvare Mercoledì! Oh, cosa? Hai trovato Mercoledì? So dov'è! Seguitemi! È sicuro? Ok! Le cose si fanno interessanti! Ehi, ma nessuno che mi ringrazia! Bene! E ora giochiamo! Non preoccuparti, ti abbelliremo giusto un po'! Quale vestito preferisci? Mi sta torturando! Ok, bene! Sarai bellissima! Beh, godi finché puoi! Oh, proviamo un vestito rosa! Ecco fatto! Che pessimo gusto! Che ne dici di questo? Vediamo! Fantastico! È fantastico che tu sia ancora viva! Ascolta! Ho un'idea migliore! Fiori! Proprio quello che serviva! La combinazione perfetta! Te ne pentirai! Oh, pensiamo al tuo taglio di capelli! È ora di spazzolare queste frecce! Bene! Aggiungiamo qualche fiocco carino! Questo è stato il tuo più grande errore! E non dimentichiamo il trucco! Facciamo una piccola trasformazione! Aggiungiamo un po' di colore al tuo viso! Sì, proprio così! Paboloso! Ma io sono allergica a tutto ciò che è colorato! Sei così carina, finalmente! Guarda che bella stanzetta che ti ho preparato! Riposati per ora! Mammi si prenderà cura di te! Ehi, non puoi stare qui! Questo è inaccettabile! Vieni qui! Dov'è mercoledì? Eccola! Salvatela in fretta! Tu! L'ho trovata la mia bambina! Ehi, ha davvero lei? Abbiamo solo cambiato un po' il suo aspetto! Mercoledì? Che trasformazione, dici! Ti piace il nuovo look di mercoledì? Ma che cosa mi avete fatto? Ora va meglio! Non meriti di essere la madre di mercoledì! Non avvicinarti mai più a lei! Ma è già scappata da te! Ancora una parola? Io starei attenta fossi in te! Lei verrà con me! No, con me! Beh, non mettiamoci in mezzo! Magari lasciamo che sia mercoledì a scegliere a proposita dov'è? Cosa? Impossibile! È scappata! Di nuovo! Mercoledì Adam sa in mente qualcosa! È stata adottata? Oh no, gente! Benvenuto in famiglia! È ora che tu veda la tua nuova casa! Che schifo! Un'espressione non celata di sentimenti felici! Scappata di nuovo dai genitori? Vattene, amico! Ho delle cose da fare! Fermati! Perché è un orfanotrofio? Vado a farmi degli amici! Tu preferisci congelare lì? A quanto pare dovrò tenerla d'occhio! Eccoci qua! Candy Cat ha detto che questo è il miglior rifugio della città! Bene, andiamo a prendere un nuovo membro della famiglia, cara mommy! Prima le signore! La mia bella dalle guance rosa! Piccola pausa a merenda! Diamo un'occhiata in giro! Mi rintrescherò un po'! Oh! Qualcosa mi dice che sono nei guai? Dove te ne vai, coda di cavallo? Oh, dammi qua! Considerala una tassa di passaggio! Quindi non potrò pranzare? È una lezione per il futuro! Ehi, perché piangi? Quello arancione era il mio preferito! Oggi sono gentile! Oh! Nelle orecchie! È come una doccia agli agrumi, no? Ho conservato quel succo per il dessert! Devo ristabilire la giustizia! Buona vita, piagnucolona! Chi c'è? Non siamo ancora stati presentati! Neil, terrore di tutta la scuola! È davvero una tortura conoscerti! E il tuo nome? Aspetta! Oh! Sono stato toccato da delle dita di zombie! Che schifo! Ti sei spaventato, bolletto? O hai bevuto troppo succo di frutta? Si è attaccato alle mie gambe! Il mio stile è rovinato! Ti manco? Attacco di un mostro! Ciao!